benvenuti al primo passo del nostro viaggio alla scoperta dell'induismo l'induismo è una delle religioni più antiche del mondo con una storia che risale a migliaia di anni fa si tratta di un sistema di credenze pratiche e filosofie che è profondamente radicato nella cultura e nella società indiana incominciamo allora con una breve introduzione i cui contenuti verranno approfonditi nei prossimi video l'induismo non ha un fondatore singolo e le sue origini risalgono alla civiltà della valle dell'indo tra il 2500 e il 1500 avanti cristo successivamente si è evoluto attraverso vari periodi vedico epico e classico il periodo vedico questo periodo tra il 1500 e il 500 avanti cristo è caratterizzato dalla composizione dei veda i testi sacri più antichi dell'induismo i veda includono inni rituali e importanti principi filosofici il periodo epico è caratterizzato dalla composizione dei grandi poemi epici il mahabharata e il ramayana che narrano storie di divinità ed eroi e contengono insegnamenti morali e filosofici il periodo classico durante questo periodo tra il 500 avanti cristo e il 500 dopo cristo si sviluppano testi fondamentali come le upanishad i purana e i dharma shastra che elaborano ulteriormente le dottrine religiose e filosofiche i testi sacri l'induismo ha un vasto corpo di testi sacri che possono essere classificati in due categorie principali shruti ascoltato e smriti ricordato shruti include i veda rigveda samaveda yajurveda attarvaveda e le upanishad questi testi sono considerati rivelati e contengono le verità eterne smriti include testi come il mahabharata il ramayana i purana e i dharma shastra questi testi hanno una autorità inferiore dei veda ma sono fondamentali per la pratica religiosa e per comprendere la cultura indiana le divinità l'induismo venera una vasta gamma di divinità ma non sarebbe corretto definirlo semplicemente politeista famosa è la frase presente nel rigveda dio è uno ma i saggi lo chiamano con molti nomi detto questo vediamo quali sono le divinità principali particolarmente venerate brahma il creatore dell'universo vishnu il preservatore spesso incarnato in avatar come krishna e rama shiva il distruttore e trasformatore adorato in molte forme incluso natarajah il signore della danza devi la grande dea che appare in molteplici forme come durga lakshmi saraswati e parvati ganesha il dio della saggezza e dei nuovi inizi riconoscibile per la sua testa di elefante l'induismo abbraccia una serie di concetti filosofici estremamente importanti dharma il dovere e la giustizia variabile in base alla casta all'età e al genere karma la legge di causa ed effetto che determina il destino di un individuo nelle vite future samsara il ciclo di nascita morte e rinascita moksha la liberazione dal ciclo di samsara raggiungibile attraverso la conoscenza la devozione e le pratiche spirituali pratiche religiose le pratiche religiose nell'induismo variano molto e possono includere puja il culto quotidiano delle divinità che può essere svolto a casa o nei templi yajna i sacrifici rituali specialmente quelli del fuoco feste e festival come di wali oli navaratri e molti altri che celebrano vari eventi mitologici e legati alle stagioni pellegrinaggi viaggi a luoghi sacri come varanasi rishikesh e altri yoga e meditazione pratiche spirituali per il controllo della mente e l'unione con il divino caste e società la società induista tradizionale è organizzata in un sistema di caste varna che comprende bramini sacerdoti e insegnanti kshatriya guerrieri e re vaisha mercanti e agricoltori shudra lavoratori e servitori oltre a queste quattro caste principali esistono migliaia di sottocaste yati basate su occupazioni specifiche influenza e diffusione l'induismo ha avuto un enorme influenza sulla cultura l'arte la letteratura e la filosofia indiana sebbene prevalentemente praticato in india e nepal l'induismo ha anche una significativa presenza in altre parti del mondo possiamo quindi concludere questa breve introduzione riconoscendo che l'induismo è una religione estremamente diversificata e flessibile che permette una vasta gamma di credenze e pratiche la sua ricca storia i suoi testi sacri le sue filosofie profonde e le sue pratiche variegate contribuiscono a renderlo una delle tradizioni spirituali più complesse e affascinanti del mondo e quindi